La neve è arrivata, quindi siamo pronti per questa nuova stagione invernale. Avremo un primo assaggio alla fine di novembre, ma poi l'apertura ufficiale verrà fatta il 7 dicembre con l'evento della Fashion Week. Un inverno di eventi, un inverno già di buone prenotazioni, di un'attenzione all'aumento delle tariffe. Ci fanno ben sperare in una stagione, finalmente speriamo, all'insegna della normalità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.